Sono qui stasera per una sfilata La nostra sfilata e mi devo congratulare con lo staff del trucco Perché trovo che siano molto professionali E hanno interpretato bene ciò che noi chiedavamo Un trucco un po' anni 30 rivisitato nel 2018 Ringrazio tantissimo l'Accademia perché ci permette di lavorare a queste meravigliose esperienze Grazie a tutti!